Giunta regionale, via libera all'Oliverio Bis, tra domani e mercoledì l'ufficializzazione del nuovo esecutivo, esclusi quasi certamente tutti gli uscenti, compreso Carlo Guccione, prepara le dimissioni da Presidente del Consiglio, anche Antonio Scalzo, a guidare l'assemblea Mimmo Battaglio, Flora Sculco. Game over, niente referendum, il nuovo statuto è salvo, scaduti ieri i termini per richiedere la consultazione popolare, prevalgono le divisioni e l'interno di Forza Italia, Morrone e Graziano ritirano le rispettive firme e gli azzurri sono costretti ad alzare bandiera bianca. Primo esodo da incubo, rallentamenti e difficoltà per gli automobilisti in arrivo nella nostra regione, la Salerno Reggio rimane la regina delle opere iniziate e mai portate a termine e la chiusura del viadotto Italia complica ulteriormente la vita ai viaggiatori. Un territorio, tante vertenze, la protesta dei lavoratori dell'amministrazione provinciale da 13 giorni sul tetto dell'edificio costituisce solo una delle molte questioni aperte nel Vibonese, la CGL prova a tenere accesi i riflettori. Cosenza salute il nuovo vescovo, Monsignor Francesco Nolè a due mesi dalla nomina papale, da ieri ufficialmente alla guida della diocesi, l'insediamento con una cerimonia ufficiale in cattedrale, presenti le massime istituzioni locali. Buona domenica e ben ritrovati con la C-News. La politica regionale in apertura, tra domani e mercoledì verrà ufficializzata la nuova giunta regionale. Saranno esclusi quasi certamente tutti gli uscenti, compreso Carlo Guccione, prepara le valigie anche il presidente del consiglio Antonio Scalzo. Per noi Tonino Fortuna. Ore decisive per la formazione della nuova giunta regionale. Il conclave tra il governatore e i suoi fedelissimi è già praticamente iniziato. Tra domani e mercoledì verrà ufficializzato l'esecutivo. Scampato il rischio referendum, grazie ai dissidi nel centrodestra, il nuovo statuto potrà entrare finalmente in vigore, dando di fatto inizio ad otto mesi dal voto alla nuova legislatura. Messa letteralmente K.O., la giunta varata a metà nei mesi scorsi dall'operazione Erga Omnes, il presidente della regione è pronto a giocarsi la partita decisiva. Servirà nell'immediato una giunta di alto profilo, capace di aggredire i problemi della regione. L'azzeramento dovrà essere totale, la rottura con il passato immediata. Dunque insieme a Nino De Gaetano e Vincenzo Antonio Ciconti, anche Carlo Guccione dovrebbe rinunciare al proprio assessorato. Altrimenti si riaprirebbero i giochi sulla presidenza del consiglio, che Antonio Scalzo, su input di Largo del Nazareno, pare ormai convinto a lasciare. La sua poltrona potrebbe andare al reggino Mimmo Battaglia o in alternativa a Florasculco, unica donna eletta in assemblea per Calabria in rete. Quanto alla squadra di governo non mancheranno le sorprese, accanto ai nomi che si fanno ormai da giorni. Nell'esecutivo dovrebbero entrare l'ex sindaco di Lamezia Terme Gianni Speranza, il professor Antonio Viscomi e l'ex assessore alla cultura alla provincia di Cosenza, Maria Francesca Corigliano. Rimangono ancora da coprire alcune caselle su cui sarà Roma a dare indicazioni precise nelle prossime ore. Una decisa in versione di rotta è ciò che promette il governatore Oliverio, che noi abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Consapevolezza, idee chiare sui tempi, sul metodo e nel merito. Così si mostra il presidente della regione Mario Oliverio, che intervistato a pubblica piazza il talk politico di LACI, annuncia i suoi imminenti passi. La nuova giunta appena sarà promulgato lo statuto, lunedì sarà fatta la promulgazione dello statuto e subito dopo sarà costituita la nuova giunta. Il governatore lascia intendere che la via maestra nella definizione della nuova giunta sarà quella del rinnovamento. Scegliere tenendo conto di competenze, tenendo conto di professionalità, tenendo conto di territori, tenendo conto di un insieme di fattori, quello che posso dire è che sarà una nuova giunta e sarà una giunta che tenderà ad affermare i caratteri di una discontinuità con il passato che abbiamo alle spalle. Non perché io voglia mettere in discussione il passato, adesso ci mancherebbe altro proprio io, diciamo che ho una storia e un passato, ma perché noi abbiamo bisogno in questo momento di aiutare ad affermarsi una nuova classe dirigente. Il mio compito l'ho dichiarato in campagna elettorale, io mi sono sceso in campo per aiutare una nuova classe dirigente a mettersi in campo e credo che anche questo passaggio è la conferma della giustezza di quel proposito e di questo proposito che io riconfermo. E rimaniamo alla politica. Non ci sarà alcun referendum sul nuovo statuto. Scaduti ieri i termini per la presentazione della richiesta, Forza Italia non è riuscita a trovare la quadratura del cerchio. A tirarsi indietro è Ennio Morrone e Giuseppe Graziano. Tempo scaduto, la riforma dello statuto è salva, non ci sarà alcun referendum sulla magna carta che entrerà in vigore già nella giornata di domani. Il governatore l'ha messa definitivamente in cassaforte grazie al contributo di una minoranza letteralmente in brandelli incapace di approfittare del convulso avvio di legislatura per il centro-sinistra. Forza Italia, vittima delle sue beghe interne, non è riuscita a promuovere dunque la sfida referendaria segno che se il centro-sinistra è diviso, il centro-destra in questo momento è ben poca cosa in Calabria. La conferma è arrivata da Alessandro Nicolò e Francesco Cannizzaro, rispettivamente portabandiera azzurro e della Casa delle Libertà a Palazzo Campanella. Sulla questione è stato messo nello subbianco nella giornata di ieri un documento nel quale si chiarisce come le posizioni siano differenziate all'interno della coalizione. Non era d'altronde occasionale l'assenza di Ennio Morrone e di Giuseppe Graziano all'ultima riunione convocata da Iole Santelli che aveva letteralmente fatto saltare dalla sedia Mimmo Tallini. I due avevano peraltro diffidato i rispettivi capigruppo a non depositare il documento a suo tempo sottoscritto dagli otto consiglieri regionali del centro-destra. Semplice la deduzione, con appena sei firme addio sogni di gloria mentre affiorano nuovamente le spaccature destinate a far dimenticare presto le affermazioni di Vibo Valencia, Gioia Tauro e la Mezzia Terme. E ora 120 secondi per fare il punto della situazione sulle altre notizie di cronaca della giornata. Una casa è stata fatta esplodere nella frazione di San Giovanni di Zambrone nel Vibonese. I gnoti si sono introdotti all'interno dell'edificio dopo aver forzato la serratura saturando l'ambiente con il gas contenuto in due bobole che avevano con l'oro. Inevitabile l'esplosione che ha letteralmente devastato il fabbricato. L'immobile in fase di ristrutturazione era ancora disabitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Arrestato a bianco nel Regino un 48enne, Domenico Ferro, trovato in possesso di 225 piante di canapa indiana. L'uomo dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della locale stazione a seguito di un decreto di sospensione provvisore dell'affidamento al servizio sociale con conseguente carcerazione. Il 16 giugno scorso, ad Africa, durante un controllo del territorio svolto dai militari dello squadrone e li portato cacciatori Calabria, Ferro era stato una prima volta fermato insieme ad altri suoi due complici. Un incendio ha distrutto 140 bale di fieno che venivano trasportate a bordo di un autocarro sulla strada satale 106 Ionica, nei pressi di Crotone, per domare le fiamme. È stato necessario l'intervento di due squadre di vigili del fuoco che hanno anche spento un altro incendio divampato a poca distanza dal camion. A causa delle fiamme il traffico ha subito notevoli rallentamenti. E ora parliamo di viabilità e opere pubbliche. Primo esodo da incubo la Salerno-Reggio Calabria, rimane un'autostrada con l'abbrodo, numerosi cantieri ancora aperti, automobilisti costretti a procedere a passo d'uomo nei pressi del viadotto Italia, chiuso per il crollo di una campata. Gli anni passano, le incompiute restano, per qualche cantiere chiuso nuovi se ne aprono, le carreggiate delle principali arterie si allargono e si restringono a fisarmonica. Tra demolizioni e ricostruzioni lo slalom trasforma in un inferno il primo esodo dei vacanzieri, non tantissimi oramai, quelli rimasti fedeli alla punta dello stivale. La Salerno-Reggio Calabria continua a rappresentare solo il simbolo di un insieme di ritardi e lentezze. Circolazione intassata da mezzi pesanti, andatura lenta, automobili costretti a procedere a passo d'uomo anche quest'anno. A complicare la situazione è sopraggiunto il crollo della campata del viadotto Italia che costringe gli automobilisti a lasciare l'autostrada ed addentrarsi nel pollino. Ma l'A3 non è l'unico neo. A chiarirlo, l'anagrafe delle incompiute è divulgata dal Ministero delle Infrastrutture. Con ben 94 opere iniziate e mai concluse, 30 in più dello scorso anno, la Calabria è infatti in testa alla speciale graduatoria. E la Salerno-Reggio non è che la punta di un iceberg. Nel lungo elenco scuole, strutture sportive, tratti stradali, sistemi per lo smaltimento dei rifiuti, immobili di edilizia sociale, ma anche interventi contro il dissesto idrogeologico, lavori di completamento di bacini idrici, dighe ed invasi vari. Il primato tra le province spetta a Cosenza, seguita da Reggio Calabria, Catanzaro, Vibbo e Crotone, anche se in qualche caso i numeri sono decisamente esigui per raffigurare la realtà che scorre dinanzi agli occhi di residenti e passanti. E ora la pagina del lavoro. Sotto la nostra lente di ingrandimento, ancora una volta l'avvertenza dei lavoratori dell'amministrazione provinciale di Vibbo Valencia. Una delle tante questioni su cui la CGL non molla e continua a tenere accesi i riflettori. Sentiamo. Risolvere l'avvertenza dei dipendenti della provincia di Vibbo Valencia per guardare con maggiore fiducia e ottimismo alle altre. Tante, troppe vertenze aperte nel Vibonese. Questo l'auspicio del segretario provinciale della CGL Luigi De Nardo. Lui che da 12 giorni è sul tetto della provincia, accanto ai dipendenti da 5 mesi senza stipendio. Una lotta estrema che nelle ultime ore ha ottenuto un primo importante segnale grazie all'intervento del Presidente della Regione che ha ottenuto l'impegno da parte del sottosegretario della Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti di sospendere o dilazionare di due anni il pagamento delle rate dei mutui dell'ente per saldare le spettanze arretrate. In questo momento risolvere i problemi della provincia di Vibbo significa non risolvere chiaramente tutte le criticità vertenziali che non è il caso di stare qui a richiamare, ma significa dare una grande boccata di fiducia perché se si sistema lo Stato e quindi la sua autonomia, la sua programmazione, la sua progettualità sui territori significa che la strada per le tante vertenze del settore privato comincia ad avere una salita meno irta e significa che potremo iniziare poi a settembre a rivedere più seriamente le cose su cui lavorare. Quindi deponiamo in questa vertenza la prospettiva di tutte le questioni del lavoro sul territorio perché se si risolve questa si riuscirà ad avere una fiducia in più per andare avanti e provare a rimettere in discussione seriamente il problema del mondo del lavoro, del disagio sociale, della crisi economica che è ormai in condizioni devastanti e di esasperazione molto pericolosa per tutti noi. E adesso spostiamoci alla mezzia terme dove l'assessorata alle politiche sociali è stato attribuito ad un membro del Movimento Territorio e Lavoro che da sempre fa di Rom e Migrati uno dei suoi cavalli di battaglia. Decisamente un cambiamento di rotta rispetto all'amministrazione precedente. Sentiamo. Non è passato nemmeno un mese da quando Gianni Speranza ha lasciato la poltrona di sindaco eppure la geografia della politica lametina ha già acquistato una fisionomia decisamente diversa. Non è solo un passaggio di consegni al centro-destra quello avvenuto con l'insediamento di Paolo Mascaro ma anche un segnale importante. La mezzia terme, città da sempre tra le più solidali con una ramificata rete di sprarra e associazioni dedite ad immigrati e all'integrazione e scolarizzazione dei Rom ora ha un assessorato alle politiche sociali affidato ad un membro di MTL. Si tratta di Elisa Gullo basta andare sulla pagina Facebook ufficiale di MTL La Mezzia per vedere inviti a radere al suolo Scordovillo e gli ultimi piani delle palazzine Aterp di San Pietro Lametine abitato appunto da cittadini di etnia Rom. Nel programma elettorale per le ultime amministrative alla voce politica e sociali si legge rapido riequilibrio dell'attuale sistema capace di danneggiare i lametini a vantaggio di Rom e clandestini. Senza poi dimenticare che ora in Consiglio Comunale siede il coordinatore regionale di Casa Paundo, Mimmo Gianturco. Sul sito ufficiale del movimento si legge i Rom devono essere rimossi dalle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari così come dalle liste per l'erogazione dei contributi sociali. Un netto cambio di tendenza rispetto alle politiche portate avanti fino ad ora anche se il sindaco Paolo Mascaro intervenendo alla festa del rifugiato si è detto orgoglioso di quanto fatto sino ad ora ed ha assicurato che tutti i progetti proseguiranno. E cambiamo decisamente argomento, lasciamo la politica. Si è insediato ieri a Cosenza Monsignor Francesco Onolè designato nuovo vescovo della dioce Sibruzia il servizio di Elvira Madrigrano. Il vescovo Monsignor Francesco Onolè è pastore della Santa Chiesa di Cosenza vicinata in metropolita della provincia di Pesano. Un nuovo vescovo che arriva è un evento che travalica la dimensione ecclesiale e investe un'intera comunità civile dimostrandosi un fatto rilevante per tutti. Ieri nel Duomo di Cosenza si è tenuta la cerimonia di insediamento e tra gli applausi e l'emozione dei fedeli è avvenuto il passaggio del pastorale dalle mani del vescovo uscente Salvatore Nunari a Monsignor Onolè. Nunari ha benedetto Onolè invocando le parole della preghiera della Madonna del Pilerio protettrice della città ad assistere alla cerimonia le autorità civili e militari cosentine e lucane presenti anche gli anziani genitori del neorcivescovo Bruzio. Durante l'omelia il presule ha rimarcato il suo desiderio di favorire un atteggiamento di ascolto reciproco vescovo e sacerdoti, sacerdoti e laici, genitori e figli tutti insieme, ha poi aggiunto Onolè per ascoltare ed accogliere pazientemente i desideri e i bisogni dei poveri, degli ultimi, dei giovani in cerca di lavoro e di verità in ascolto delle domande profonde e inquietanti che ci vengono dalla società e dalle periferie dalle carceri e dagli ospedali dalle case per anziani e dagli immigrati dalla cultura e dal creato. E il vescovo Francesco Onolè, nel giorno del suo insediamento all'Arcidiocesi di Cosenza, prima della cerimonia ufficiale ha incontrato le autorità. Vediamo. Ieri pomeriggio il nuovo arcivescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Onolè, ha incontrato le istituzioni prima della cerimonia di insediamento. Onolè, dell'Ordine Francescano dei Frati Minori Conventuali, precedentemente era vescovo di Tursi-Lago Negro, all'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, succede a Monsignor Salvatore Nunneri, di cui il Papa ha accettato la rinuncia per raggiunti limiti di età. All'incontro erano presenti il viceministro dell'interno Filippo Bubbico, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella e il presidente della provincia e sindaco di Cosenza Mario Chiuto. Numerosi poi i sindaci e rappresentanti istituzionali di Calabria e Basilicata. Il mio messaggio, ha detto Monsignor Nole, è di comunione. Il mio messaggio è di comunione. Come avevo scritto anche nel messaggio che ho inviato, speriamo di mantenere io la semplicità e la gioia che sta nel motto e di insieme lavorare per il bene di tutti. Bene comuni. Io penso che se ognuno fa il suo lavoro onestamente e lo mette insieme agli altri, faremo belle cose. E adesso la sanità. L'equip di Novare, quella di Catanzaro, hanno individuato la molecola responsabile del processo degenerativo che contraddistingue il morbo di Parkinson. Un passo in avanti nella cura della malattia. Una ricerca svolta in collaborazione tra il Laboratorio di Patologia Molecolare dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Novara, diretto dal professor Ciro Isidoro, e il Laboratorio di Farmacologia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, diretto dal professore Vincenzo Mollace, svela nuove strategie di cura nella malattia del Parkinson. Il team di ricerca ha impiegato circa cinque anni per giungere alla dimostrazione che lo stress ossidativo agisce principalmente sulle maggiori componenti cellulari del sistema nervoso, che determina il processo di degradazione dei costituenti propri della cellula, danneggiati o anomali. Trovate la causa, è più facile prevedere le cure da adottare. L'equip medica ha anche individuato l'enzima, la molecola responsabile della produzione dei radicali liberi ossidanti. E ora la pagina della cultura. È la regina Mariangela Costantino, la vincitrice dell'edizione 2015 del premio di poesia dedicato ad Alda Merini. Sentiamo. È la poetessa Mariangela Costantino di Reggio Calabria, con la lirica Ti donerò i miei occhi, la vincitrice del premio Alda Merini, promosso dall'Accademia dei Bronzi a Catanzaro. Cento i poeti provenienti da ogni parte d'Italia che hanno concorso la quarta edizione della manifestazione. Ad aggiudicarsi, ex equo, il secondo premio, Lucia De Cicco di Cerisano per la lirica Novella Dante col suo Virgilio, Gino Iorio di Calvi Risorta per la lirica 4 gennaio 2015, Angelo Napolitano di Cosenza per la lirica Del pane fatto casa e Mario Roperto di Vibo Valencia per la lirica In memoria di mio padre. Unico partner istituzionale è la Camera di Commercio, preseduta da Paolo Abramo, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. La Camera di Commercio ritiene, secondo una strategia che ritengo corretta, che la cultura sia il primo posto per lo sviluppo, per l'evoluzione del sistema produttivo. Questa è una delle tante motivazioni che ci lega a Dulcini, a questo editore, ma soprattutto a questo volontario straordinario che è riuscito a creare un evento, un evento di carattere certamente culturale, ma che attiene anche alla vivocizzazione di questa città, di questa provincia, ad un marketing territoriale che assieme portiamo avanti. Un evento straordinario che porta in questa città poeti, iscrittori da ogni parte d'Italia, li accogliamo come sempre facciamo, col nostro garbo, con la nostra discrezione. Credo che sia un atto dovuto anche nei confronti di tanti volontari che si impegnano. E prosegue il percorso di avvicinamento a Miss Italia. Arrende la giovanissima Maria Assunta Apa, vinto la prima selezione provinciale del concorso di bellezza. Questa sera, nuova tappa alla Mezzeterme. Proseguono in Calabria le selezioni regionali del concorso di bellezza più importante dell'anno, Miss Italia 2015. Arrende la prima selezione provinciale, a conquistare la giuria la giovanissima Maria Assunta Apa, con la fascia numero 8, a cui è stato assegnato il titolo di Miss Hotel Majorana. La carovana della bellezza prosegue il suo viaggio e sarà stasera alla Mezzeterme, al Resort Hotel Casinolenza. Altre bellezze sfileranno per contendersi la fascia più importante. Quest'anno i criteri di valutazione saranno più rigidi e l'edizione sarà ricca di novità. Parola del direttore artistico di Miss Italia, lo stilista Claudio Greco. Miss Italia è veramente, l'ho rivoluzionato, ho sposato la cultura, la prima cosa. E quindi sarà uno spettacolo, un grande spettacolo e Miss Italia arriverà a Vibo. Ci sarà una serata a Vibo da definire. Quindi una selezione del concorso Miss Italia a Vibo Valencia, prossimamente. Prossimamente ci sarà una fascia che andrà in finale regionale e da Vibo partiranno pure. È una serata regionale a Vibo. E chiudiamo con gli eventi dell'estate. È un omaggio ai Pink Floyd quello che offre il Museo del Rock a Catanzaro nel mese di luglio. Dal 7 al 9 invece spazio al Festival del Cinema. Anche il Museo del Rock di Catanzaro rende omaggio al mito dei Pink Floyd che in questi giorni rivive a Pompei attraverso una mostra fotografica inedita sull'indimenticabile concerto a porte chiuse che il gruppo tenne all'Anfiteatro degli Scavi nell'ottobre 1971. L'evento nasce a 44 anni di distanza dal film Live at Pompei diretto dal registo a scozzese Adrian Mabben che ha immortalato una delle performance più belle della storia di Pink Floyd. Al Museo del Rock di Catanzaro sono esposti due manifesti e la locandina della prima edizione italiana della pellicola autentiche chicche per gli appassionati nell'ambito di un'esposizione ricca e variegata. Il calendario dell'attività proseguirà inoltre con alcune iniziative all'insegna della musica e del cinema. Dal 7 al 9 luglio sarà la volta invece del Piccolo Festival del Cinema Rock una rassegna di tre serate con inizio alle ore 20 e 30 dedicate ad alcune pellicole cult. E' tutto, vi aspetto dopo un breve break pubblicitario con il TG Sport. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia. Grazie.